Ciao, oggi siamo qui con Banni, che è un coniglio ariete, per vedere come predisporre il miglior ambiente per un piccolo coniglio. Innanzitutto dobbiamo scegliere una gabbia adeguata che deve essere almeno un metro di larghezza per 50 centimetri di profondità per 30 centimetri di altezza. Una volta scelta la gabbia, dobbiamo predisporre il fondo o lettiera. La lettiera deve essere composta di tre strati perché ha tre funzioni. Una funzione igienica, che può essere soddisfatta utilizzando un pellet di legno come il primo strato. Una funzione di isolante termico per garantire al coniglio la giusta temperatura, che può essere fatta utilizzando della fibra naturale di canapa, e poi un ultimo e terzo strato composto di paglia naturale, che va a soddisfare l'igiene necessario al coniglio. Una volta fatta la lettiera, dobbiamo provvedere a una serie di accessori necessari all'ambiente. Come possiamo fare? Utilizzando un beverino fondamentale, che deve essere sempre pieno d'acqua e sempre lasciato a disposizione del coniglio. Meglio se con una custodia termica, che soprattutto nei mesi estivi garantisce di poter mantenere l'acqua alla giusta temperatura. Una rastrelliera dove poter mettere il fieno e una piccola ciotola dove poter mettere dell'alimento. successivamente andremo a fornire al coniglio anche il fieno, alimento fondamentale che deve essere sempre dato all'animale e di cui l'animale deve poter sempre usufruire. Infine dobbiamo dare al nostro piccolo animale anche un alimento. L'importante è che questo alimento sia di ottima qualità e con un'alta percentuale di fibra, dato che il coniglio è un animale prettamente erbivoro. Mettendo in pratica tutti questi accorgimenti, saremo sicuri di fornire al nostro piccolo coniglio il miglior benessere possibile e un ambiente a 5 stelle.